Nella tranquilla cittadina di Meggiugorie, a circa 25 chilometri da Mostar, il destino ha deciso di scrivere una delle pagine più affascinanti del libro «Dei misteri irrisolti». Era l'anno 1981 e sei giovani, quattro ragazze e due ragazzi, la cui età variava dai 10 ai 16 anni, divennero gli inaspettati protagonisti di un evento che avrebbe cambiato per sempre la loro vita e quella di un intero paese. Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vika Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic e Milka Pavlovich hanno raccontato dettagliatamente il loro incontro con la Gospa, signora in bosniaco, sul monte Podbrdo. Ogni pomeriggio, verso le sei, entrarono in uno stato di estasi, una trance profonda in cui per loro il mondo esterno cessava di esistere. C'erano solo loro e l'apparizione, che pregavano e dialogavano in una comunione che sfidava ogni logica umana. Questa notizia si diffuse presto, attirando credenti e scettici da ogni angolo del pianeta, generando un vortice di attenzione che costrinse le autorità ecclesiastiche e governative a mettere gli occhi su Meggiugorie. Ma, lungi dallo svanire, il mistero di Meggiugorie è cresciuto, si è rafforzato, diventando un simbolo di fede indistruttibile che ha trasceso le generazioni. Anno dopo anno, la devozione e il fervore nel conoscere e vivere ciò che è accaduto in quel luogo non hanno fatto altro che aumentare, consolidando Meggiugorie come uno dei centri di pellegrinaggio più significativi del mondo. Allo stesso tempo, in un universo di rivelazioni mistiche, la profezia di Marie-Julie Jaenny, la mistica francese stigmatizzata, risuona con una rilevanza agghiacciante. Le sue visioni, dei tre giorni di buio, forieri di tribolazioni e di purificazione, sembrano trovare un eco nel nostro tempo, segnato da conflitti e calamità naturali. Il mese di marzo 2024 sarà il culmine di queste profezie? Una domanda che risuona con forza mentre il mondo guarda, aspetta e si chiede se affronterà letteralmente tre giorni di oscurità assoluta o se affronteremo un'oscurità di altro tipo? Una crisi spirituale che ci costringe a guardare dentro noi stessi, alla ricerca di quella luce interiore che Marie-Julie Ci ha suggerito come faro nei momenti di oscurità. L'umanità, nel corso della sua storia, ha affrontato momenti di crisi che sembrano preludere al compimento di antiche profezie. In questi tempi di incertezza, le parole di Marie-Julie Jaenny e il mistero di Medjugorje si intrecciano, invitandoci a riflettere sul potere della fede, della speranza e della luce in mezzo alle tenebre. E così, a questo bivio, tra fede e profezia, tra speranza e paura, l'umanità si trova a un bivio cruciale. Riusciremo a trovare e sostenere quella luce interiore che ci guida nei momenti più bui, come suggeriscono le visioni di quei giovani a Medjugorje e le profezie di Marie-Julie? Solo il tempo rivelerà la risposta a questa domanda, ma una cosa è certa. La ricerca della luce in mezzo all'oscurità è un viaggio che condividiamo tutti, un viaggio che definisce l'essenza stessa di ciò che significa essere umani. Le apparizioni di Medjugorje trascesero presto i confini della fede e dell'incredulità, diventando un fenomeno che sfida le spiegazioni convenzionali. L'interazione diretta e personale che i sei giovani affermarono di avere con la Vergine Maria introdusse un nuovo capitolo nella storia delle esperienze mistiche. Attraverso loro, la Gospa avrebbe trasmesso messaggi destinati ad essere condivisi con il mondo intero, messaggi che parlavano di pace, conversione, preghiera e digiuno. Questa comunicazione celeste, descritto come profondamente spirituale ed emotivo, immergeva i veggenti in uno stato di estasi, in cui l'ambiente fisico svaniva davanti alla travolgente presenza del divino. Questa straordinaria testimonianza ha attirato pellegrini a Medjugorje da ogni angolo del globo, ognuno con la speranza di intravedere qualcosa di questo miracolo, di trovare risposte o magari guarigione. La fama di Medjugorje crebbe in modo esponenziale, alimentata da storie di conversioni e miracoli, rafforzando il suo status di uno dei luoghi di pellegrinaggio mariano più significativi al mondo. Tuttavia, questo fenomeno non è rimasto senza controllo. La comunità scientifica e le autorità ecclesiastiche guardano con occhio critico agli avvenimenti di Medjugorje. Sottoporre i sensitivi a numerosi test e analisi, nel tentativo di scoprire la verità dietro le loro affermazioni. La ricerca di spiegazioni psicologiche, o fraudolento, è stato accolto con l'incrollabile convinzione dei giovani, che sono rimasti saldi nell'autenticità delle loro esperienze. Al di là dello scetticismo e dell'incredulità, Medjugorje ha acceso un movimento di fede che ha risuonato nei cuori di milioni di persone, spingendoli a cercare un significato spirituale più profondo. In un mondo spesso segnato dalla disperazione e dalla frammentazione, le storie emerse da questa piccola città della Bosnia ed Erzegovina sono diventate testimonianze di un desiderio universale di connessione e trascendenza. Questo movimento non solo riflette la ricerca del divino nel contesto contemporaneo, ma solleva anche domande fondamentali sulla natura della fede e dell'esperienza spirituale. Com'è possibile che, in mezzo alla tecnologia e allo scetticismo scientifico, milioni di persone trovino conforto e significato nelle storie delle apparizioni mariane? Mediugorie, con il suo mistero persistente e il suo appello alla conversione, sfida le moderne concezioni della spiritualità, suggerendo che, forse, il soprannaturale e il divino continuano a svolgere un ruolo essenziale nella vita umana. Il fenomeno Mediugorie, quindi, trascende la semplice curiosità o il fervore religioso. Diventa uno specchio delle nostre lotte e speranze. Nella storia di queste apparizioni troviamo riflessi i nostri dubbi, i nostri desideri di certezza e conforto e il desiderio innato di credere in qualcosa più grande di noi stessi. Ci ricorda che, in tempi di incertezza e cambiamento, l'umanità continua a cercare fari di speranza e messaggi di pace. Pertanto, anche se Mediugorie continua ad essere argomento di dibattito tra credenti e scettici, il suo impatto è in dubbio. Ha ispirato una generazione a riesaminare le proprie convinzioni, ad aprire i propri cuori alla possibilità dei miracoli e a riflettere sulla presenza del sacro nelle proprie vite. L'intervento del regime comunista della Jugoslavia e l'esauriente esame psichiatrico al quale furono sottoposti i veggenti di Mediugorie rivelano la complessità e la tensione che circondarono questi eventi fin dal loro inizio. Le autorità, preoccupate per il potere di attrazione che avevano queste apparizioni e per l'influenza che potevano esercitare sulla popolazione, tentarono senza successo di controllare e ridurre il flusso dei fedeli e persone curiose attratte dalla storia dei giovani, la restrizione dell'accesso al luogo delle apparizioni da parte dell'esercito e la sorveglianza costante non ha fatto altro che sottolineare l'importanza che il governo ha dato a questa situazione, vedendola come una sfida diretta alla sua autorità e alla sua ideologia atea. Contemporaneamente, la comunità scientifica e psichiatrica cercava risposte nel campo della salute mentale. Le analisi hanno cercato di discernere se ciò che i veggenti hanno vissuto fosse il prodotto di qualche condizione psicologica che potesse spiegare visioni e stati di estasi senza ricorrere al soprannaturale. Questa ricerca di spiegazioni razionali era uno sforzo per comprendere fenomeni che, se autentici, sfidavano le concezioni consolidate della realtà e dell'esperienza umana. Nonostante questi tentativi di dissuadere, screditare o controllare le apparizioni e la loro crescente popolarità, l'effetto fu opposto. La fede e la determinazione dei visionari insieme alla repressione esercitata dal governo hanno ulteriormente acceso l'interesse globale. Medjugorje è diventato un potente simbolo di resistenza spirituale, un luogo dove la fede sfidava l'oppressione e la ricerca di significato e conforto trascendeva le barriere imposte dalle autorità. Questo periodo di prova e le avversità non solo rafforzarono la devozione dei già credenti ma attirarono anche molti che, mossi dalla curiosità o dalla propria ricerca spirituale, si sentirono ispirati dalla storia della resistenza e fede indistruttibile di Medjugorje. Ciò che inizialmente poteva essere interpretato come una serie di visioni isolate divenne un movimento globale, una comunità di fede che estende le sue radici ben oltre i confini della Bosnia-Herzegovina. Il fenomeno Medjugorje, quindi, parla di un desiderio profondo e universale di connettersi con il divino. Per trovare speranza, nei momenti di disperazione. La resistenza dei veggenti e della comunità che li ha sostenuti è diventata una testimonianza della forza della fede di fronte alle avversità. Un promemoria che lo spirito umano può trovare la luce anche nei momenti più bui. La storia di Medjugorje è un eco dell'eterna lotta tra oppressione e libertà tra dubbio e fede offrendo un rifugio spirituale per coloro che cercano un significato oltre il materiale e il terreno. Come ultima opzione Medjugorje non è solo un luogo di pellegrinaggio mariano ma un faro di speranza a dimostrazione di come la fede può unire le persone oltre i confini le culture e i sistemi di credenze. Al crocevia tra fede e mistero le apparizioni di Medjugorje hanno inciso un capitolo intrigante nella storia contemporanea della spiritualità. Da quel primo incontro nel 1981 la Chiesa Cattolica ha camminato su una linea sottile in bilico tra scetticismo e speranza cautela e riconoscimento. La dichiarazione di Zara del 1991 sebbene provvisoria ha aperto le porte a una comprensione più profonda di ciò che questi eventi potrebbero significare per i fedeli di tutto il mondo. Mentre la Chiesa continuava la sua indagine deliberata e meticolosa Medjugorje stava emergendo non solo come luogo di pellegrinaggio mariano ma come un fenomeno globale che sfidava le convenzioni e le aspettative i fedeli commossi da storie di conversione e guarigione una famiglia spirituale estesa oltre i confini geografici e culturali Medjugorje con il suo messaggio di preghiera conversione pace e digiuno è diventato un faro di luce per molti offrendo uno spazio per l'incontro personale con il divino in un mondo spesso consumato dal rumore e dalla distrazione ed è a questo punto nel bel mezzo della nostra esplorazione di Medjugorje e del suo messaggio eterno che rivolgiamo un invito speciale a tutti voi nostri cari spettatori se questa storia di fede il mistero e la comunità risuonano con te ti invitiamo a iscriverti al nostro canale qui non esploriamo solo le profondità delle apparizioni mariane e degli altri misteri della fede ma costruiamo anche una comunità di persone che cercano di approfondire la propria comprensione spirituale e trovare guida nel proprio cammino di fede inoltre siamo lieti di invitarvi al nostro gruppo Telegram dove si apre uno spazio per condividere esperienze riflessioni e trovare sostegno nel proprio cammino spirituale con solo 20 posti disponibili questa è un'opportunità unica per entrare a far parte di una comunità intima e impegnata dedicato a esplorare le ricchezze della nostra fede e come applicarle nella nostra vita quotidiana Meggiugorie ci ricorda che nella ricerca del divino non siamo soli la nostra giornata è condivisa da milioni di persone ognuno con la propria storia le proprie lotte e speranze attraverso il dialogo e la preghiera possiamo trovare un senso di scopo e di pace ispirati da luoghi ed eventi che sebbene circondati dal mistero ci invitano a guardare oltre noi stessi verso una realtà più ampia e più spirituale in questo spirito di comunità e ricerca condivisa ti incoraggiamo a fare quel passo ad unirti a noi in questo viaggio di fede e scoperta il terzo segreto di Meggiugorie con la promessa di un segno visibile e indistruttibile sulla collina delle apparizioni si presenta come un affascinante incrocio tra il divino e il tangibile un ponte tra cielo e terra questa rivelazione che promette di essere un dono della regina della pace ha generato un'ondata di attesa e di speculazione sia tra i fedeli che tra gli scettici segnando un momento futuro di grande significato per l'umanità la visione di un evento trasformativo capace di chiamare i non credenti alla conversione e di rafforzare la fede dei già credenti pone il terzo segreto in un posto centrale all'interno della narrazione di Meggiugorie la Vergine Maria promettendo un segno bello e indistruttibile non solo offre la prova del divino nel nostro mondo ma invia anche un messaggio di urgenza il tempo della conversione e della riconciliazione è adesso le sanzioni annunciate eventi di notevole impatto per il mondo servono da campanello d'allarme sull'importanza di vivere in armonia con la creazione e con il creatore questi avvertimenti lungi dall'essere visti come punizioni possono essere interpretati come opportunità di risveglio spirituale e di trasformazione personale e collettiva in questo contesto il terzo segreto diventa una promessa di speranza e un ricordo dell'onnipresenza del divino nella nostra vita l'attesa che circonda la rivelazione di questo segno divino riflette un'ansia profonda ma anche una speranza nell'umanità di trovare certezza in mezzo all'incertezza viviamo in tempi in cui il materialismo e il disincanto spesso oscurano la nostra connessione con lo spirituale in questo scenario la promessa di un segno tangibile del divino agisce come un faro di luce invitandoci a riflettere sul senso della nostra esistenza e sull'importanza di coltivare un rapporto più profondo con il trascendentale questa narrazione attorno al terzo segreto ci spinge a considerare la nostra risposta individuale e collettivamente alle sfide che dobbiamo affrontare come umanità come possiamo trasformarci di fronte alla promessa di un cambiamento così significativo siamo preparati a riconoscere e ad accettare un segno di questa portata queste domande risuonano nel cuore di chi segue da vicino gli avvenimenti di Medjugorje spingendoci a viverli con maggiore consapevolezza in uno stato di preparazione e di apertura al divino mentre il mondo attende la manifestazione di questo segno la storia di Medjugorje continua a ispirare milioni di persone a cercare una connessione più profonda con la loro fede a vivere con maggiore integrità e a ricordare l'importanza della preghiera e conversione nella nostra vita il terzo segreto con la sua promessa di un futuro evento trasformativo non è solo una rivelazione prevedibile ma una chiamata ad agire a vivere ogni giorno con un rinnovato senso di scopo e speranza mentre camminiamo insieme verso un futuro in cui il divino e l'umano si incontrano dall'inizio delle apparizioni a Medjugorje nel 1981 l'approccio della Chiesa Cattolica a questi eventi è stato di cautela e riflessione profonda la creazione di commissioni incaricate di indagare sulle apparizioni e sui messaggi segnalati sottolinea l'attenzione della Chiesa nel comprendere questi fenomeni alla luce della dottrina cattolica mantenendo un equilibrio tra l'adesione alla devozione popolare e il controllo teologico la dichiarazione di Zara del 1991 e le successive azioni vaticane riflettono l'intenzione di avvicinarsi a Medjugorje con un approccio pastorale riconoscendo la profonda devozione che il luogo ispira nei fedeli di tutto il mondo la distinzione operata da Papa Francesco tra le prime apparizioni e le presunte continuazioni offre una prospettiva di cautela suggerendo una complessità degli eventi che richiede una valutazione continua la nomina di Monsignor Enric Hoser a visitatore apostolico nel 2018 incentrato sull'assicurare un adeguato accompagnamento pastorale alla comunità locale e ai pellegrini segnala un impegno della Chiesa per il benessere spirituale di coloro che visitano Medjugorje questa azione pur senza implicare un riconoscimento formale delle apparizioni evidenzia l'importanza di offrire orientamento e sostegno in un luogo di forte attrazione mariana l'autorizzazione nel 2019 DA parte della Santa Sede a riprendere i pellegrinaggi ufficiali a Medjugorje è indicativa di un approccio più aperto riconoscendo già lì abbondanti frutti di grazia emersi sebbene questa misura non costituisca una convalida delle apparizioni offre comunque uno spazio affinché i fedeli possano sperimentare un rinnovamento e una conversione spirituale nel rispetto del profondo legame che molti sentono verso quel luogo questo approccio equilibrato della Chiesa nei confronti di Medjugorje illustra la tensione insita nella valutazione dei fenomeni religiosi contemporanei il desiderio di abbracciare la spiritualità e la devozione popolare pur mantenendo l'integrità dell'insegnamento cattolico permettendo i pellegrinaggi ufficiali e fornendo assistenza pastorale senza riconoscimento formale delle apparizioni la Chiesa si pone come guida spirituale aprirsi alla grazia e alla conversione che luoghi come Medjugorje possono ispirare pur sottolineando la necessità di discernimento e cautela in questo contesto la storia di Medjugorje diventa una riflessione sulla ricerca umana del divino e sul ruolo della Chiesa nel guidare tale ricerca offre un caso di studio su come la fede cattolica affronta e si adatta alle sfide del mondo moderno cercando sempre di promuovere per i fedeli un'esperienza spirituale autentica e profonda per i fedeli per i fedeli per la valutazione degli eventi di Medjugorje la Chiesa offre una testimonianza di pazienza di preghiera e di pastorale in questo condiviso itinerario di fede i fedeli sono invitati ad approfondire il proprio impegno spirituale animati dalla speranza e la grazia che luoghi come Medjugorje possono offrire sotto la guida attenta della tradizione e dell'insegnamento cattolico Papa Francesco con il suo caratteristico approccio pastorale che cerca di avvicinare la Chiesa alla gente ha mantenuto una linea attenta e riflessiva attorno alle apparizioni di Medjugorje i suoi commenti offrono una visione sfumata bilanciando la devozione popolare con la necessità di un profondo discernimento spirituale la distinzione da lui operata tra le prime apparizioni e quelle successive suggerisce una cautela nei confronti delle affermazioni di messaggi quotidiani della Vergine Maria invitando a riflettere sulla natura delle rivelazioni mariane e il suo posto nella vita della Chiesa questa posizione non solo riflette la sua preoccupazione di mantenere l'autenticità dell'esperienza spirituale in linea con la tradizione cattolica ma sottolinea anche il suo impegno nella pastorale dei fedeli nominando Monsignor Henrik Hoser visitatore apostolico speciale per Mediugorie Papa Francesco ha dato priorità all'accompagnamento spirituale della comunità e dei pellegrini dimostrando ancora una volta il suo approccio centrato sulla persona e sul suo benessere spirituale questo approccio pastorale a Mediugorie che evita un giudizio definitivo sulle apparizioni pur promuovendo un ambiente di fede e di preghiera è indicativo di un Papa che valorizza profondamente l'esperienza religiosa personale e comunitaria soffermandosi sugli abbondanti frutti di grazia scaturiti dai pellegrinaggi a Mediugorie senza pronunciarsi formalmente sulla veridicità delle apparizioni Francesco invita i fedeli a una pratica di fede che sia allo stesso tempo profondamente personale e universalmente inclusiva questa visione di Papa Francesco su Mediugorie ci porta a considerare come viviamo e di L'esperienza personale della fede, tra esame e apertura alla grazia. Ora vogliamo sapere la tua opinione. Ci invita a una maggiore apertura verso le esperienze spirituali personali nel quadro della dottrina cattolica o ci invita a una riflessione più critica su di esse. Ti invitiamo a condividere i tuoi pensieri nei commenti. Quindi risponderemo alle migliori risposte, cercando insieme di approfondire questo dialogo tra fede, tradizione ed esperienza contemporanea. La nomina di Monsignor Henrik Hoser, a visitatore apostolico speciale per Meggiugorie nel 2018, DA parte di Papa Francesco, ha segnato una pietra miliare nel rapporto tra il Vaticano e questo luogo di pellegrinaggio. Questa azione non solo ha sottolineato l'interesse del Papa per il benessere spirituale di coloro che visitano Meggiugorie, ma ha anche riaffermato l'importanza che le pratiche pastorali nel luogo siano in armonia con gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. La missione di Monsignor Hoser, incentrato sulla cura pastorale e sull'accompagnamento spirituale, riflette la consapevolezza che l'esperienza di fede a Meggiugorie trascende le discussioni sulla veridicità delle apparizioni mariane, concentrandosi invece sulla profondità e sull'autenticità della conversione spirituale che i pellegrini possono sperimentare lì. Questo approccio Vaticano a Meggiugorie evidenzia una verità essenziale sulla natura dei luoghi di pellegrinaggio. Sono spazi in cui la ricerca del Divino e il desiderio di una connessione più profonda con Dio può manifestarsi in modi potenti e trasformativi. L'azione, volta a garantire che Meggiugorie sia un ambiente in cui i fedeli possano approfondire la propria fede nel quadro della dottrina cattolica, evidenzia il riconoscimento del bisogno umano di incontri personali con il Sacro, così come la responsabilità della Chiesa di guidare e sostenere tale ricerca. La decisione di Papa Francesco di inviare uno speciale visitatore apostolico invia anche un messaggio di apertura e di cura pastorale alla comunità globale dei fedeli. In tal modo, sottolinea il ruolo della Chiesa come facilitatrice di esperienze spirituali che portano alla crescita personale e comunitaria, alla riflessione profonda e alla conversione del cuore. Questo gesto si allinea con l'approccio globale del suo pontificato, caratterizzato dal desiderio di avvicinare la Chiesa alla gente e di rispondere ai loro bisogni spirituali con compassione e comprensione. In questo contesto, Mediugorie si distingue non solo come luogo di presunte apparizioni mariane, ma come centro vibrante di spiritualità viva, dove i pellegrini possono immergersi nella preghiera, ricevere i sacramenti e partecipare ad una comunità di fede che è allo stesso tempo locale e universale. La presenza di uno speciale visitatore apostolico assicura che questa esperienza spirituale rimanga fedele ai principi della Chiesa, offrire ai pellegrini un accompagnamento che arricchisca il loro cammino di fede. La storia di Mediugorie e la risposta della Chiesa ad essa ci invitano a riflettere sull'importanza dei luoghi di pellegrinaggio nella nostra vita spirituale. Che ruolo pensi che questi spazi sacri giochino nel rafforzare la nostra fede? E come possono facilitare la nostra connessione personale con Dio? La decisione del Vaticano, nel 2019, di consentire ufficialmente i pellegrinaggi a Mediugorie rappresenta un significativo riconoscimento della profonda spiritualità e devozione che emana da questo luogo. In tal modo, la Chiesa Cattolica ha aperto le braccia a milioni di fedeli la cui vita è stata toccata e trasformata dalle esperienze vissute in questo santuario mariano. Questo gesto sottolinea la comprensione che, al di là dei dibattiti sull'autenticità delle apparizioni, Mediugorie è emerso come un faro di fede, offrendo uno spazio sacro per la preghiera, la conversione e un incontro personale con il Divino. L'autorizzazione ai pellegrinaggi ufficiali è un passo avanti nel cammino dell'accompagnamento spirituale e pastorale dei pellegrini, promuovendo un quadro in cui le pratiche religiose a Mediugorie, in linea con la dottrina e le tradizioni della Chiesa, si incoraggia una devozione mariana che arricchisce la fede dei credenti, rafforzando il loro legame con la Chiesa universale. Questo approccio riflette il desiderio della Santa Sede di coltivare la spiritualità dei fedeli, riconoscendo gli abbondanti frutti di grazia emersi da Mediugorie e facilitare un'esperienza religiosa che sia allo stesso tempo autentica e profondamente cattolica. Questo atto di apertura del Vaticano a Mediugorie non solo convalida le esperienze spirituali di innumerevoli pellegrini, ma invita anche la Chiesa a riflettere sull'importanza dei santuari mariani e dei luoghi di pellegrinaggio nel contesto della fede contemporanea. Accogliere Mediugorie nell'abbraccio pastorale della Chiesa evidenzia il potere di questi luoghi sacri di ispirare il rinnovamento spirituale e rafforzare la comunità dei credenti. La decisione di facilitare i pellegrinaggi ufficiali a Mediugorie sottolinea la visione di Papa Francesco di una Chiesa che cammina al fianco dei suoi fedeli, guidandoli nella loro ricerca spirituale con amore, rispetto e discernimento. Questo approccio pastorale a Mediugorie rafforza l'impegno della Chiesa per la cura spirituale dei pellegrini, riconoscendo il posto unico che Mediugorie occupa nel cuore di molti. L'apertura del Vaticano a Mediugorie ci porta ad una domanda essenziale per tutti i credenti. Come possono luoghi come Mediugorie influenzare il nostro cammino spirituale e rafforzare il nostro rapporto con la Chiesa e con Dio? Il messaggio più recente da Mediugorie, trasmesso nel marzo 2024, risuona come un eco di continuità e urgenza nella chiamata alla preghiera e alla conversione. L'insistenza della Vergine Maria, affinché i fedeli si uniscano a lei nella preghiera, affinché il bene prevalga, riflette un profondo desiderio di trasformazione spirituale, non solo a livello individuale, ma anche a livello comunitario. Questo messaggio sottolinea l'attualità senza tempo di Mediugorie come luogo che, nonostante le controversie sull'autenticità delle apparizioni, rimane un faro di spiritualità nel mondo moderno. L'esortazione ad essere preghiera, luce e testimoni in un mondo che vaga senza Dio e senza il suo amore, ci ricorda la nostra responsabilità di credenti di vivere attivamente e visibilmente la nostra fede. L'appello a diventare segno per i non credenti e a non aspettare un segno per convertirsi, sottolinea l'azione propositiva nella fede che ci si aspetta da noi. Questo messaggio ci spinge a riconoscere la grazia disponibile nel presente, sottolineando che il tempo della grazia è adesso un periodo prezioso per la crescita spirituale e l'approfondimento del nostro rapporto con Dio. La Vergine, attraverso questo messaggio, avverte che, nonostante le promesse di segni e miracoli, il bisogno di conversione e di riconciliazione con Dio è urgente e non può essere rinviato. L'insistenza su una pronta conversione prima che sia troppo tardi ci mette di fronte alla serietà della chiamata divina, invitandoci a riflettere sulla nostra risposta personale e comunitaria a questa chiamata. Questo messaggio del 2020 Faor racchiude l'essenza degli appelli alla conversione. La preghiera e il digiuno che sono stati costanti fin dall'inizio delle apparizioni. Ci ricorda che la vita spirituale richiede un'azione consapevole e deliberata. Un impegno che va oltre le pratiche superficiali per abbracciare una trasformazione profonda che ci allinea più strettamente ai valori del Vangelo. Inoltre, la chiamata ad essere preghiera e luce per tutti coloro che incontriamo evidenzia l'importanza di un'evangelizzazione attiva, non solo con le parole, ma attraverso la testimonianza della nostra vita. Ci sfida a essere esempi viventi di fede, speranza e amore cristiani in un mondo che spesso sembra aver perso la strada verso Dio. Questo messaggio da Medjugorje ci invita a riflettere. Come possiamo vivere questa chiamata alla preghiera e alla conversione nella nostra vita quotidiana? In che modo possiamo diventare luce e testimoni della fede nel nostro ambiente? Soprattutto per coloro che non conoscono ancora l'amore di Dio. Condividi le tue riflessioni ed esperienze nei commenti. Ci impegniamo a rispondere ai contributi più arricchenti, cercando insieme modi per vivere la nostra fede in modo più pieno e attivo. Grazie per esservi uniti a noi in questa riflessione sul messaggio più recente di Medjugorje e sulla sua chiamata alla preghiera e alla conversione. Ci auguriamo che questo viaggio abbia ispirato una maggiore profondità nella tua vita spirituale e ti abbia motivato a vivere la tua fede con rinnovato impegno. Ricordiamo che la nostra risposta alla chiamata divina può trasformare non solo la nostra vita, ma anche il mondo che ci circonda. Mentre continuiamo a cercare la luce e guida nel nostro cammino spirituale, possa la nostra testimonianza di fede diventare fonte di ispirazione e speranza per tutti coloro che incontriamo. Non crederai a quello che vedrai in esso. Clicca ora sul video sullo schermo. Ci vediamo lì! Grazie per aver guardato questo video. Iscriviti al canale e unisciti al nostro gruppo Telegram per continuare ad esplorare insieme i misteri della nostra fede.